è giornalista e collaboratore di una delle trasmissioni RAI d'inchiesta più famose Report di RAI3 ma è anche un produttore di vini biologici è di Roma ed è qui per presentare il suo ultimo libro Piero Riccardi che parla del cibo e del rapporto della società moderna con questo alimento così importante Riprendiamoci il cibo, questo il titolo del suo ultimo lavoro Di che cosa tratta Riprendiamoci il cibo? Tratta del cibo, però l'ho scritto in questo triplice ruolo come consigliere di una BCC locale del Lazio, come produttore di vino e come giornalista di Report per il quale ho seguito molte inchieste sull'agricoltura Riprendiamoci il cibo perché in questo momento il cibo secondo me è sotto pressione Da una parte sicuramente l'aumento della popolazione crea questa ansia che il cibo debba mancare In effetti ne produciamo tantissimo, sappiamo benissimo che ne sprechiamo tantissimo Basti pensare che qui al PIL della Svizzera lo spreco di cibo mondiale Quindi parliamo di cifre mostruose Ne produciamo tanto, spesso anche a basso ormai con molta facilità consumando meno terra, ma aumentando molto il consumo di acqua il degrado della terra, il consumo di petrolio per cui spesso consumiamo più energia di quanta ne riusciamo a ricavare Quindi il problema non è tanto che manca il cibo è che c'è una quantità enorme di cibo che spesso è di bassa qualità Ecco, sul cibo c'è una grossa pressione Riprendiamoci il cibo perché dobbiamo riflettere Spercare il cibo è una cattiva educazione o è una cattiva cultura? È una cattiva cultura È anche un'educazione perché spesso poi da bambini sprechiamo il cibo Io vengo da una generazione e lo racconto nel libro Io sono nato nel 1954 Negli anni, quindi uscivamo dopo la guerra e c'era il boom Però esisteva ancora nelle famiglie un rispetto per il cibo Non si sprecava, un pezzettino di pane non si sprecava perché il pane era pane, cioè si veniva fuori da guerra Adesso ne sprechiamo tonnellate e sembra che stiamo sprecando il niente Perché tanto ce n'è questi scaffali che sono sempre pieni di cibo che si rinnova Mangiamo molto di più di quello che c'è necessario per sopravvivere Anche quello è uno spreco C'è un miliardo di obesi nel mondo e quello è uno spreco Grazie